Benvenuti nella controrassegna stampa delle notizie meno diffuse dei media italiani allineati all'euroatlantismo. Iniziamo dalle parole veramente incredibili per chi è abituato ad una certa narrativa allineata ultra-atlantista in Italia, dai media principali quantomeno. Le parole dell'ex primo ministro australiano, primo ministro negli anni 90 del partito laborista dei lavoratori. La Nato è un veleno, dice lui letteralmente, è una cosa veramente dannosa e il segretario generale norvegese Jens Stoltenberg, segretario ovviamente dell'Alleanza Nordatlantica, è un pazzo. Si chiama Paul Keating e secondo lui la Nato non ha assolutamente nulla da fare in Asia, non c'entra nulla con il continente asiatico. E la Nato dovrebbe, secondo lui, rimanere attaccata ai propri obiettivi originari, quelli della guerra fredda notoriamente, rimanere soprattutto attiva solo nell'area transatlantica del nord dell'Atlantico, proprio per una questione difensiva ufficialmente, quindi garantire la sicurezza dei paesi europei dell'ovest e del nord America, quindi Canada e Stati Uniti. Partito dei laboristi dal 91 al 96, primo ministro australiano e parla anche del tentativo, lui, della Nato in Asia di accerchiare in tutti i modi la Cina, così come è successo con la federazione russa negli ultimi decenni. In Asia si cerca, la Nato cerca di esportare il suo modello europeo e nord americano, secondo lo stesso australiano si tratta di una peste, di un tentativo di appestare il suo paese. Stoltenberg, per chiudere, non solo un pazzo, ma si comporta, secondo lo stesso ex primo ministro politico-laborista, come un agente americano, soprattutto nel vecchio continente, adesso in Asia, in funzione anticinese, con Taiwan, la guerra commerciale e chi più ne ha più ne metta. Come da titolo, non ve lo raccontano, da 12.000 mercenari, soprattutto di paesi Nato, volontari, se preferite, per i più sensibili, sono rimasti solamente in 2.200 i mercenari stranieri di paesi soprattutto Nato, ma non solo in Ucraina, attualmente dall'inizio di questa fase della guerra, da febbraio 2022. A riferirlo, lunedì, ieri, il ministero della difesa russo, tramite il portavoce famosissimo Igor Konashenkov, che dice, che ha detto ieri sera, 11.675 mercenari stranieri, soprattutto di paesi Nato, registrati da 84 paesi diversi nel mondo. Più di 2.600, quindi in questo enorme numero, più di 2.600 dalla Polonia, seguono Stati Uniti, Canada con più di 900, Georgia, Grusio, più di 800, Gran Bretagna, Romania, più di 700, poi Croazia, Francia e tutti gli altri. 4.845 morti, di questo numero enorme, e 4.801 sarebbero poi fuggiti, secondo ovviamente la versione, la prospettiva del Cremlino russa. Così a giugno, il 30 giugno scorso, sarebbero rimasti attivi ufficialmente solo 2.209, secondo sempre, lo ripeto, la prospettiva russa e non Ucraina. L'Ucraina parla di legione, di volontari internazionali, quella legione internazionale è voluta da Zelensky l'anno scorso, ricorderete quando è stata approvata, formata, creata dal Presidente della Repubblica. Kiev starebbe aumentando la velocità, intensificando gli arruolamenti, soprattutto in Asia, in Latinoamerica, nel Vicino Oriente, nel Medio Oriente, proprio per la mancanza sempre più grande di personale, di soldati dell'esercito ucraino, per le perdite, per i profughi che fuggono anche illegalmente nei bauli delle auto, per esempio in Ungheria, quello che racconto ormai da anni. Il regime di Kiev continua con Aschenkov, usa molto spesso, sempre più spesso, come carne da macello, da cannone, questi mercenari stranieri, soprattutto Nato attualmente. La legione internazionale ucraina è stata colpita duramente nel marzo 2022 per quanto riguarda una base nella città di Yavorov, un bombardamento dove persero la vita almeno 180 volontari mercenari, anche e soprattutto di paesi Nato, secondo lo stesso Konashenko. All'epoca lo riportò puntualmente nel bollettino di guerra giornaliero. I veterani occidentali hanno più volte, come ho raccontato nelle ultime settimane, intervistati per esempio a Daily Beast americano, raccontato quanto rispetto all'Iraq e all'Afghanistan questa sia una guerra assolutamente terribile, un vero e proprio inferno. Ringrazio per il contributo mensile Roberto, grazie per sostenere questo tipo di informazione diversa, originale, con prospettive vietate dalle menti più allineate. 50.000 soldati LGBTQ nell'esercito ucraino secondo, un'organizzazione non governativa LGBT Ucraina, che dopo nominerò, descriverò nel nome più precisamente. Contro, per lottare quindi questo arruolamento, questa riconoscenza a questi soldati, serve nella società ucraina a emanciparla, aprirla e renderla più inclusiva, sentite come parlo globalista, rispetto alla cattiva, cattivissima società russa. E' a scriverla un giornale inglese, non io, il Telegraph, che intervista un soldato LGBT ucraino Boris, un tale Boris, che parla di come l'omofobia, l'omotransbifobia in Ucraina, termini orribili lo so, sia un fenomeno appartenente alla tradizione peggiore russa e non ucraina. La ONG, comunque, l'ONG Ucraina, si chiama LGBTQ Military, è un'organizzazione, qualcuno parla di legami, di interessi nella sfera di Soros e della Open Society Foundations neoliberale, che conosciamo molto bene su questo canale. Il belga, capo dei neoliberali di Regno Europe al Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt, su Twitter se la prende con Erdogan. Tutti festeggiano questa mattina l'ingresso, sapete, della Svezia, nella Nato, nel prossimo futuro. Bisognerà vedere la velocità della ratifica del Parlamento, non solo turco, ma ungherese di Budapest con Orban, il mancato rispetto dei politici di spicco in Svezia, Stoccolma, dintorni del nostro Stato di diritto in Ungheria. Bugie su bugie diffuse da questi politici svedesi negli ultimi anni, come saprete, proprio e soprattutto dalle varie sinistre, Arcobaleno, Fucsia, ma anche dalle destre, Bluet, come direbbe qualcuno. Verhofstadt però ha ragione, però si ferma a un certo punto. Erdogan ha ricattato l'Unione Europea e la Nato, la Turchia entrerebbe nell'Unione Europea in cambio di una Svezia nella Nato. Sì, però manca l'ultimo pezzo, caro Verhofstadt, cioè che la Unione Europea e la Nato si sono inginocchiati al cosiddetto sultano Erdogan, che è stato riconfermato in Turchia. Attacchi cibernetici e non cyber, come dicono i globalisti in Italia, contro vari siti, istituzioni e radio in Lituania, Vilnius e dintorni, proprio prima del vertice Nato, saprete tutti. Riferirlo lunedì scorso, quindi ieri, Liudas Alisauskas, cioè il capo, appunto direttore del Centro Nazionale di Difesa Lituano, difesa cibernetica. In un caso è stata attaccata una radio regionale, diffuse informazioni false, secondo lui, sulla guerra sull'Ucraina e la Nato contro, quindi anti-atlantista, anti-ucrainista, magari filo russa. Biden ha riconosciuto, ammesso, che le forze armate ucraine sono in un stato critico a scrivere lo Spectator, un giornale inglese. In Ucraina mancano ormai le munizioni e la fornitura a Kiev di munizioni a grappolo, vietate in molti paesi del mondo, ma non neanche in Ucraina, questo mi sono sbagliato l'altro giorno, chiedo scusa. Sarebbe una mossa finale, una mossa per sopperire a questa mancanza di munizioni, proprio per una capacità industriale bellica occidentale non proprio al massimo storico, non solo in Ucraina. La Polonia, in segreto, nelle ultime settimane ha fornito elicotteri da guerra di derivazione sovietica all'Ucraina. I polacchi hanno protestato a Varsavia, nella capitale, centinaia di manifestanti. Ieri, più di una decina di elicotteri Mi-24 dati all'Ucraina di epoca sovietica, scrive lo Wall Street Journal americano. A Varsavia i manifestanti hanno chiesto alla Polonia, al governo diritto e giustizia, Morawiecki, Kaczynski, Duda, di normalizzare i rapporti con la Federazione Russa di Putin e con la Bielorussia confinante. Tutte e due confinanti, manifestanti filo-russi a Varsavia, a riferirlo così in questa maniera, Ukraine Form, agenzia stampa di Kiev, quindi Ucraina. Centinaia di manifestanti davanti all'edificio dell'ambasciata Ucraina, nella capitale polacca. Diversi attivisti filo-ucraini e ucraini per le strade, nelle controproteste e ovviamente in mezzo la polizia a cercare di dividere le controparti. Per chiudere, l'ex ormai ministra della giustizia ungherese che si candida come capolista per Fidesz Partito di Orba, nelle prossime elezioni europee a Bruxelles, Borgo e Judit, i conti non tornano in Unione Europea per quanto riguarda le finanze, perché diversi, mentre diversi stati membri come l'Ungheria e la Polonia continuano a non ricevere neanche un euro cento, centesimo di euro di fondi stabiliti per il fondo di recupero dal coronavirus, quindi da quasi due anni, Bruxelles chiede altri 50 miliardi per i prossimi quattro anni per finanziare l'Ucraina, soprattutto umanitariamente, ma anche militarmente. Bruxelles ha già dato, tramite ovviamente fondi degli stati membri, Bruxelles in sé non ha un potere finanziario, quasi 70 miliardi di euro in un anno e mezzo a Kiev. L'Ungheria ha ratificato il prestito in comune come l'Italia, per esempio, per tutto il resto dei 27, un anno fa, proprio per aiutare l'Ucraina e prima ancora con il coronavirus, ha mostrato solidarietà, la famosa solidarietà secondo Borgo e Judit. E non è possibile che l'Ungheria, l'Ungheria non vuole il governo Fidesz, prendere una decisione e ratificare anche questa volta, quindi uomo avvisato e mezzo salvato, se la Commissione von der Leyen non dà almeno i dettagli, non definisce i dettagli di questa nuova proposta e un nuovo prestito e quindi prendere dagli stati membri questi 50 miliardi di euro e darli anche qui all'Ucraina. Ungheria e Polonia che continuano a prendere profughi dall'Ucraina, paradossalmente soprattutto l'Ungheria è accusata di non avere uno stato di diritto sano, di essere una democratura dal Parlamento europeo e anche dalla Commissione. Questione spinosa, qui c'è tutto il grande capitolo che viene snorciolato male anche dalla cosiddetta destra, centrodestra italiano, del parassitario Orban e dell'Ungheria che prende fondi europei strutturali senza capire la complessità del mercato unico e della situazione dei paesi che venivano dal patto di Varsavia e tutto quello che ha conseguito l'apertura dei mercati nazionali per i favori delle multinazionali dell'Ovest europeo per la fiscalità e la mano d'opera a basso costo. Veramente un capitolo enorme, non ho tempo per spiegarlo qui, non ha senso ripeterlo sono quattro anni quasi che racconto questo. Grazie per aver visto questo video al prossimo tra Italia e Modior Orsag. Grazie.